Cara amica ristoratrice, caro amico ristoratore, so che te lo stai domandando anche tu. È meglio aprire 6 su 7 oppure fare 7 su 7 tutta la settimana? È meglio fare un giorno di ferie, un giorno di chiusura settimanale, il giorno di riposo, come si suole dire? Oppure si lavora 365 giorni l'anno, addirittura 366 nei mesi bisestili? Lo scopriamo insieme in questo video. Qui al microfono c'è sempre il tuo, il vostro, il nostro Lorenzo Ferrari, che come sempre sono io. Andiamo a stabilire insieme se sia meglio aprire 6 su 7 oppure tutti i giorni. Devi sapere che nelle decine di consulenze che eroghiamo annualmente su e giù per l'Italia, anzi ormai sono diventate centinaia, i nostri clienti ci domandano spesso, ragazzi ma secondo voi è giusto chiudere il ristorante per ferie? Cioè ho finito la stagione estiva, è andata anche piuttosto bene, sono in desiderio se chiudere magari tutto ottobre e riaprire poi a novembre o riaprire addirittura per Natale oppure riaprire addirittura l'anno successivo. O anche, secondo voi è meglio fare il giorno di chiusura settimanale oppure è meglio aprire 7 su 7? O il giorno di riposo, come si suole dire settimanale, meglio aprire 7 su 7? La risposta a tutte queste meravigliose domande, come sempre, è un grandissimo e gigantesco dipende. Però, visto che non mi piace fare il paraculo, ma vorrei condividere con te tre riflessioni che ti consentiranno di prendere questa decisione in autonomia e rilassatezza. Perché se è vero che la risposta giusta è dipende e la risposta è sempre dipende, soprattutto in questioni complesse come queste, è altrettanto vero che arrivando alla fine di questo video saprai prendere questa decisione in completa autonomia. Perché non è che dipende in senso generale, ma dipende dalla tua singola situazione. E quindi, potendola analizzare soltanto tu, la tua singola situazione, preferisco darti tre riflessioni su cui farci una ragionata e sono convinto che in 4-4-8 anche tu saprai se è giusto o meno fare il giorno di riposo settimanale. Riflessione numero 1. Partiamo dai numeri. E cioè, ci domandiamo, il conto economico. Che cosa dice riguarda questa decisione di aprire 6 su 7 o 7 su 7? Lo sappiamo tutti quanti. Quindi, da chi lavora in ristorazione ne ho più di un quarto d'ora sa che il costo più importante di qualsiasi attività nel campo del food è sicuramente il personale. Se il food cost ha sicuramente un impatto nell'ordine del 30, 25, 30%, se i costi generali hanno un impatto nell'ordine del 10, è altrettanto vero che il costo del personale quasi sempre supera il 40% relativamente allo fatturato. Ed è chiaro che è la voce più preponderante di tutte le attività. E qui si entra in quelle dinamiche di incastrare i turni di riposo, le ferie, i permessi e via discorrendo. Tutte tematiche che, se riesci a incastrare appunto nel modo giusto, è il classico modo per cambiare davvero le sorti del bilancio della tua attività. E tra queste riflessioni devi anche domandarti se decidere se fare 6 su 7 oppure 7 su 7 abbia senso oppure no. Infatti, tra avere il giorno di riposo settimanale oppure il fare 7 su 7, spesso e volentieri significa decidere di avere due brigate, due squadre di sala e un'enormità di costo in più. Perché se è vero che il tuo cuoco prediletto non può fare pranzo e cena tutti i giorni della settimana, per ovvi motivi, sia perché deve riposare a livello proprio legale e sia perché scoprirebbe nel giro di un mese se facesse 7 su 7 pranzo-cena, questo significa che deve avere il cuoco sostitutivo e spesso e volentieri i cuochi sostitutivi si portano indietro da altre brigate intere perché allo stesso modo devono tornare. Insomma, incastrare tra di loro, tra il 6 su 7 e il 7 su 7, questa tematica delle due brigate, significa appunto caricare la struttura di un sacco di costi in più. Quindi il primo approfondimento per capire se vale la pena chiudere per ferie o oppure fare il giorno di chiusura settimanale oppure aprire tutti i giorni della settimana, è proprio questo. Cioè devi domandarti il conto economico, il tuo business plan, il tuo previsionale di costi e ricavi, che cosa dice. Perché è vero che fare 6 su 7 o 7 su 7 significa nel primo caso diminuire parecchi costi e nel secondo caso invece significa aumentare di molti ricavi. Devi quindi fare una stima di quanti ricavi perdi chiudendo per fare un giorno di ripolo settimanale e quanti costi risparmi. Da questa, come dire, da questo equilibrio dipende la prima parte della tua decisione. Quindi banale, certo, perché è ovviamente una questione di numeri e ovviamente una questione di ricavi e costi. Dall'altro lato però se non fai questo business plan e se non fai questo previsionale riguardo al tuo conto economico non saprai mai effettivamente quanti soldi perdi o quanti soldi potresti guadagnare in più scegliendo tra 6 su 7 o 7 su 7. La seconda riflessione invece è un po' più legata al tema del marketing e riguarda appunto le abitudini della clientela o meglio riguarda l'abbondanza di clienti. Quindi se nella prima riflessione ci domandavamo in maniera molto razionale, in maniera molto fredda quanti soldi perdiamo o quanti soldi invece guadagniamo scegliendo tra fare il giorno di riporto settimanale oppure no questa volta analizziamo il punto di vista dal punto di vista delle abitudini della clientela. Per farlo ti voglio raccontare un aneddoto di come ho scoperto la mia attuale pizzeria preferita. Devi sapere che tornando da Milano mi sono trasferito nella più sperduta campagna di Reggio Emilia circa due anni fa, sì era fine 2021 o era addirittura a metà 2021, non mi ricordo comunque era un paio d'anni fa sono ritornato alle vecchie abitudini di quando abitavo appunto a Reggio Emilia e ho continuato a frequentare quella che era allora la mia pizzeria preferita. Non voglio fare nomi anche perché creerei veramente delle storie tristi però io ero cliente abitudinario di questo locale di questa pizzeria, lo sono stato sin da ragazzino perché mi ci portavano i miei genitori e poi un po' per inerzia un po' perché oggettivamente questa pizza mi piaceva parecchio e sappi che io sono un grande fanatico della pizza almeno una volta a settimana ci casco a piedi pari e ero appunto cliente abitudinario di questo locale non mi ero mai posto il problema e quindi pensavo che questo locale fosse aperto 7 su 7 e lo davo proprio per scontato nella mia testa era inconcepibile che lui avesse il giorno di riporto settimanale non chiedermi perché era un mio pregiudizio e una mia constatazione pur avendo i fatti conti appunto senza l'oste un bel giorno di martedì decido che ho voglia assolutamente di una pizza e io e la mia compagna ci richiamo su questo posto trovandolo chiuso irremediabilmente chiuso chiuso appunto per riposo settimanale io però rimango io e la mia compagna rimaniamo con la voglia insaziabile di pizza e di conseguenza eravamo alla ricerca disperata di un'alternativa e alla ricerca disperata appunto di un'alternativa entriamo in un locale nel quale credimi non sarei mai 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 entrato se non appunto mosso dalla più bieca e cieca delle disperazioni perché il locale era oggettivamente brutto e lo è tuttora molto brutto è tutto ciò che un locale non dovrebbe essere perché è brutto in una location brutta i titolari sono brutti anche se mi dispiace dirlo la gente che frequenta quel locale è brutta noi compresi perché adesso lo frequentiamo spesso però il prodotto è eccezionale il prodotto è veramente eccezionale e quindi quel locale mi ha acquisito come cliente per pura e cieca e bieca disperazione perché volevo assolutamente mangiarmi una pizza entriamo in questo nuovo locale in questa nuova pizzeria in cui non eravamo mai entrati e entrando scopriamo anche il perché perché è proprio brutto vecchio polveroso in una location davvero ci siamo passati davanti soltanto perché eravamo sulla statale per tornare per tornare a casa e niente decidiamo così di tapparci il naso e di entrare il problema quel è che entrando e provando la pizza ci innamoriamo perdutamente di quel locale e da allora ci vado più o meno una volta a settimana salto ovviamente qualche settimana perché non tutte le volte sono a casa e sono in zona da circa un paio d'anni quindi che cosa è successo che per colpa tra virgolette del giorno di riposo di quel locale io ho vagliato un'alternativa che non ho mai mai vagliato in tutta la mia vita e sono entrato appunto in questo locale pur spaventatissimo appunto da quello che mi sarebbe potuto succedere in realtà ho trovato il mio locale del cuore nel senso che quando voglio mangiare una pizza di quella tipologia vado assolutamente ed esclusivamente lì e anzi se mai mi verrai a trovare a Reggio Emilia se aveva un modo di andare fuori a cena è molto probabile che ti porterò in questo posto facendoti tutte le premesse del caso cioè che è un posto brutto gente brutta proprio il localaccio di provincia però è diventato il mio locale preferito ho fatto due conti dalla serva 35 euro di scontrino medio perché più o meno spendiamo quello in coppia per 40 settimane l'anno perché più o meno sono le volte che vi mangio una pizza fuori al ristorante a casa per un paio d'anni sono 2800 euro se la matematica non è un'opinione 2800 euro che sono in più per il titolare della mia nuova pizzeria preferita che altrimenti non mi avrebbe mai visto entrare appunto in quella attività e sono in meno per il titolare della mia ex pizzeria preferita insomma non sono dei soldi game changing ovviamente perché si tratta di due clienti acquisiti nel giro di un paio d'anni però se li sommiamo a tutti gli altri clienti fanno una grande una grande differenza questo per dirti che cosa che avere un locale aperto 7 su 7 e 365 giorni l'anno rappresenta per i clienti una certezza e non c'è niente di meglio e parlo da clienti in questo caso non da esperto di marketing e non da esperto di ristorazione che avere la serenità e la certezza di trovare il proprio locale preferito un porto sicuro un luogo sempre aperto e sempre pronto per accoglierlo e coccolarlo ricordo ancora la delusione coccente che provai quando mi trovai appunto di fronte alla porta chiusa della mia ex pizzeria preferita proprio perché dicevo cavolo ma io volevo mangiare la pizza e allora sono chiusi non mi ero certamente in quel momento da clienti vesto i panni dell'egoista bastardo dove c'è soltanto la mia voglia di mangiare la pizza e riverso le responsabilità su queste persone che non avevano aperta appunto la pizzeria non ero nemmeno posto il problema che queste persone giustamente dovessero riposare durante la settimana in quel momento ero soltanto alla ricerca di una pizzeria e la delusione è stata forte la delusione è stata coccente invece al contrario non c'è niente di peggio che recarsi di fronte al proprio locale preferito o telefonare addirittura per prenotare e trovarlo chiuso questo per due ragioni la prima è che la delusione come ti dicevo è coccente perché le aspettative non vengono soddisfatte inoltre si crea un precedente e questa è la parte più importante perché io trovando quella pizzeria chiusa mi sono posto la domanda e se la prossima volta che tornassi lo trovassi di nuovo chiuso capita ogni tanto magari anche in quei locali gestiti un po' alla vecchia magari ingestiti in maniera molto familiare in maniera molto artisanale che le aperture le chiusure delle attività siano fatte anche così perché questa mattina non avevo voglia di andare a lavorare o mi è successo un imprevisto mi è successo anche un piccolo lutto familiare e chiudo il ristorante questa cosa se da un lato è giustificabilissima dal punto di vista appunto di chiude il locale perché è chiaro che ci sono degli imprevisti nella vita che non si possono parare e il locale deve diventare chiuso dall'altro lato nei clienti si genera il precedente se questa volta le ho trovati chiusi anche la prossima volta potrei effettivamente trovarli chiusi nel cliente si rompe qualcosa c'è un meccanismo interno psicologico di certezza che in qualche modo si rompe e la fiducia viene un po' a meno nei confronti del cliente e la seconda ragione è che l'esigenza di pranzare o cenare nel cliente rimane e quella roba lì verrà soddisfatta in un modo o in un altro e verrà soddisfatta da un concorrente e dobbiamo domandarci se quel cliente che era mio affezionato che ho speso un sacco di soldi per acquisirlo ho creato una relazione l'ho coltivata per tanto tempo se poi provo un concorrente trovo in quel concorrente il suo locale preferito è una domanda che ci dobbiamo porre nel momento in cui decidiamo di aprire o chiudere 7 su 7 o fare appunto il 6 su 7 quindi ricorda tuttavia che la prima regola del marketing è avere abbondanza di clienti quindi non dipendere da nessuno almeno singolarmente di essi che questi clienti sono liberissimi di provare i competitor e innamorarsene perdutamente è parte del gioco per cui se decisi di chiudere 6 su 7 quel giorno in cui non sei aperto o lo comunichi in maniera importante ai clienti in modo tale da non creare appunto dei precedenti oppure dall'altro lato devi essere consapevole e tranquillo e sereno che possono provare tranquillamente i locali concorrenti perché tu sei stato così bravo nel fare marketing nell'acquisire tanti clienti che sostanzialmente non hai bisogno faccio le virgolette di quel cliente che va a provare il concorrente però non neghiamolo perché ci dobbiamo guardare in faccia e ci diciamo le cose come stanno che quando succede quella roba lì brucia un po' io quel cliente ci tenevo ero un cliente affezionato è nato da un concorrente ora va sempre là in qualche modo mi dispiace ci sta è umano tuttavia questo per dirti che cosa che le abitudini della clientela sono un fattore chiave da valutare nel momento in cui decidi di fare 6 su 7 o 7 su 7 la tua clientela è abitudinaria? se si è probabile che ti convenga fare le 7 su 7 la tua clientela non è abitudinaria ti frequenta in maniera spot sei in un posto dove c'è un flusso costante di clienti che poi permettiti di cambiare forse il 6 su 7 ci sta dipende ovviamente anche dai costi ma te lo dicevo nella riflessione numero 1 però le abitudini della clientela sono un fattore chiave da valutare in aggiunta a ciò non soltanto le abitudini della clientela ma anche l'abbondanza di clientela e la tua capacità di acquisirli e fidelizzarli è un fattore chiave per determinare se fare 6 su 7 o 7 su 7 riflessione numero 3 un po' più filosofica siamo passati dall'estrema razionalità del conto economico alla lettura in chiave marketing delle abitudini della clientela andiamo invece a una riflessione un po' più filosofica un po' più leggera che riguarda il KPI che ho chiamato felicità nel sistema ristoratore top se ci segui da un po' lo sai siamo famosi ormai per i nostri reportanti i reportanti sono dei report molto importanti è il motivo per cui si chiamano reportanti che racchiudono un po' tutti i KPI cioè gli indicatori di performance chiave appunto della tua attività sono delle liste di KPI appunto il reportante è una pagina a 4 per darti la possibilità di leggerla in una mezz'ora senza perderti in chiacchiere inutili che contiene appunto tutti i KPI fondamentali della tua attività e all'interno di questi reportanti misuriamo appunto tutti i KPI più importanti di un'attività di ristorazione perché? perché ci piace prendere le decisioni sui dati e non andare a tentativi o peggio seguire le emozioni c'è però un KPI che è immisurabile infatti noi non lo misuriamo all'interno di questi reportanti ma al contempo nonostante sia immisurabile sia intangibile è estremamente importante ecco il KPI quell'indicatore di performance è la felicità di chi lavora almeno dal tuo locale in particolare parlo della tua felicità della tua felicità di quella dei tuoi collaboratori di quella dei tuoi familiari se lavori con la tua famiglia di quella dei tuoi soci sei dei soci e di quella dei tuoi dipendenti sei dei dipendenti insomma della tua felicità e delle persone che lavorano con te e per te questa cosa questa felicità è qualcosa di intangibile di impalpabile di astratto ma al tempo stesso è concretissimo quando si parla di turnover del personale di attaccamento alla maglia di prestazioni perché team felice ristorante che fattura team infelice ristorante che chiude dopo qualche mese questa è la verità i ristoranti sono aziende come tutte le aziende sono fatte di persone se queste persone sono felici di lavorare per il tuo locale il locale funziona bene se le tue persone non sono felici di lavorare per il tuo locale o vanno dai concorrenti o credimi il tuo locale ha vita davvero breve ecco arriviamo al tema di questo video chiudere per ferie o fare il giorno di riporo settimanale come influisce sulla tua felicità e su quella di chi lavora con te è la domanda che ti devi porre se in questo momento hai una squadra di ragazzi tutti giovani che vogliono assolutamente fare un giorno di riporo settimanale o magari chiudere la domenica per passare con gli amici e i parenti o se a Natale vogliono tutti staccare perché vogliono andare in famiglia a lavorare o se non vogliono fare il capodanno perché per loro è importantissimo festeggiare appunto l'ultimo dell'anno con amici e conoscenti o se il martedì è il giorno migliore per fare un corso di aggiornamento professionale eccetera eccetera quanto influisce quella decisione sul tavolo delle trattative che avrai con loro e in generale sull'umore generale che si svilupperà dentro al tuo ristorante è una domanda che devi assolutamente porti perché dalla risposta a quella domanda hai un altro fattore chiave per decidere se conviene fare il giorno di riporto settimanale oppure no il KPI felicità ti ripeto è intangibile è impalpabile è astratto ma in realtà è estremamente concreto quando si tratta di raggiungere dei risultati insieme altra squadra quindi facciamo un piccolo riassunto di come decidere se fare 6 su 7 o 7 su 7 ci sono tre aspetti da valutare il conto economico che cosa dice le abitudini della clientela e l'abbondanza che sei in grado di creare di clienti e di clienti fidelizzati e infine il KPI felicità ora queste cose non sono in ordine di importanza per te magari potrebbe essere importante il KPI felicità o per te potrebbe essere più importante guardare il conto economico che cosa dice o addirittura per te esserci per i clienti e essere una certezza nei loro confronti è la cosa più importante di tutte io non lo so perché non ti conosco e non so chi c'è dall'altra parte dello schermo quello che so però è che devi trovare una gerarchia tra questi tre aspetti devi decidere qual è quello più importante per te e sulla base di questi capirai anche tu se fare 6 su 7 7 su 7 se prenderti le ferie durante l'anno se chiudere tutto dicembre se chiudere ad aprile o se aprire durante la pasqua questo è quello che avevo da dirti noi ci vediamo alla prossima e come sempre dai cazzo grazie a tutti